Lei è la Marine Le Pen italiana o le piacerebbe? Eh, le piacerebbe, dai. Dai che le piacerebbe. Io non amo questo provincialismo tipicamente italiano per il quale ci si deve sempre rapportare a qualcuno che sta dall'altra parte. È Marine Le Pen che deve sentirsi la Giorgia Meloni francese. Diciamo le cose come stanno. Io spero che Marine Le Pen voglia sentirsi la Giorgia Meloni francese. E lavoro per questo, insomma. Lei è stata pure ministro, lei ancora no. Mi piacerebbe sempre che gli altri guardassero ai nostri modelli. Allora perché è così contenta? No, beh, ma io non sono contenta. Io penso semplicemente che quello che in qualche maniera emerge oggi, al di là delle dichiarazioni un po' semplicistiche con le quali si derubrica il fenomeno Le Pen antipolitica, fenomeno di populismo, una roba che bisogna tenere in un angolo, invece in verità quello che in questi mesi i palazzi non hanno voluto vedere è quell'altra Europa fatta di cittadini, di popoli che chiedono il ritorno dei diritti, che sono stanchi di non contare nulla, che sono stanchi di paragare sulla loro pelle i costi di una crisi che ha generato qualcun altro, che sono stanchi della politica del rigore cieco che serve a qualcuno e che difende l'egoismo di qualcuno e che fa macelleria sociale nelle altre nazioni, che non sono stanchi del gioco dell'euro, che sono stanchi dei sorrisini dei commissari europei che per le politiche che hanno generato in Europa, che hanno massacrato intere nazioni dovrebbero semplicemente andare a casa invece di fare i loro sorrisini simpatici al cospetto dei presidenti del Consiglio. E lo dico anche a fronte del fatto che è stato fatto a un presidente del Consiglio al quale io non ho votato la fiducia, che è Matteo Renzi, perché penso che una nazione normale, quando manda il proprio rappresentante, il presidente del Consiglio all'estero, non dovrebbe mai tollerare che qualcun altro si prenda gioco del rappresentante di uno Stato solano. Ma poi ci sono stati, ma non è vero, dice, non è vero, non era. Purtroppo era una scena che avevamo già visto, che in altri casi a qualcuno sono andate bene, noi paghiamo anche una nostra incapacità di difendere il nostro interesse nazionale, la nostra dignità al cospetto dell'Europa, ma di questo parleremo. Penso che questo, che è quello che accadrà anche in Italia e in tutta Europa, è semplicemente un popolo che decide di alzare la testa e di tornare a contare, a cospetto del fatto che ha voluto che non contasse con i risultati che vediamo. Allora, che volete voi, con esattezza? Perché quello che non volete l'abbiamo capito, ma vorremmo capire quello che volete. Noi vorremmo riappropriarci della nostra sovranità, che vuol dire sovranità politica, che vuol dire sovranità monetaria, che vuol dire democrazia, cioè il diritto per i popoli di scegliere e di autodeterminarsi, perché vede una cosa che dell'Europa non funziona è che tutto è in mano alla Banca Centrale Europea, tutto è in mano alla Commissione Europea che non è elettata nessuno, il Parlamento Europeo che è eletto con elezioni di primo grado, conta poco o niente, tutte le decisioni passano sopra la testa dei cittadini e sono decisioni che spesso vengono interpretate, perché così sono contro i cittadini. E vede, è doloroso dirlo perché io sono una grande europeista, la storia della destra italiana è una storia di grande europeismo, cioè l'Europa della civiltà, l'Europa dei popoli, l'Europa dei campanini, ma proprio per chi è davvero europeista questa Europa che noi vediamo è intollerabile, che è un'Europa egoista a trazione tedesca, che ha fatto gli interessi di qualcuno a scapito di qualcun altro, che ha tenuto una cieca politica di rigore, ben sapendo che avrebbe prodotto povertà e macelleria sociale. Sì, ma adesso andiamo al punto, se lei fosse al posto di Renzi, alla Merkel che cosa chiederebbe? Se io fossi al posto di Renzi andrei in Europa, non dalla Merkel, diciamo, andrei alla Commissione Europea e direi che all'Italia a queste condizioni non conviene stare nell'euro e quindi dichiarerei la disponibilità dell'Italia a uscire dall'euro, a meno che l'Europa non si renda... A lei crede realistica? A meno che l'Europa non voglia convincerci a rimanere. Stiamo con i piedi per terra. Lei crede che sia realistica la proposta di uscire dall'euro? Non solo io. Che abbia un minimo di fondamento? Guardi, non solo io lo credo. Ci sono fiorfiori di studi che vanno da Merrill Lynch a Annomura, passando per Mediobanca, che dicono che non solo che è realistica, ma dicono che converrebbe all'Italia uscire dall'euro. Perché le condizioni nelle quali ci troviamo, noi purtroppo abbiamo due ordini di problemi. Il problema, diciamo così, di metodo e un problema di Merrill. Il problema di metodo è che noi siamo convinti di aver fatto una moneta unica, ma noi non abbiamo fatto una moneta unica. Noi abbiamo cambiato nome al marco tedesco e abbiamo adottato il marco tedesco. Con quale risultato? Che abbiamo una moneta che non è minimamente legata alla forza della nostra economia. Quando l'euro è entrato in vigore, con un euro ti davano 80 centesimi di dollaro. Oggi con un euro ti danno un dollaro e 40. Significa che si presume che l'economia italiana in questi anni sia cresciuta praticamente il doppio di quella americana. Ora, secondo lei questo è realistico, non lo è. Dopodiché stare all'interno di quella realtà, cioè della realtà dell'euro, per noi, che ricordo, perché questo non lo dice mai nessuno, noi veniamo trattati come la Grecia e il Portogallo. Ma l'Italia non è la Grecia e non è il Portogallo, ok? Noi, però è importante dirlo. L'Italia è la nazione che in assoluto all'interno dell'Unione Europea contribuisce di più in rapporto al proprio prodotto interno lordo, ok? Perché mentre il nostro PIL crollava, noi abbiamo continuato a dare all'Europa le stesse risorse. Quindi oggi siamo la nazione che in assoluto, in termini percentuali rispetto al proprio PIL, dà in Europa di più. E siamo quelli che, no, i famosi PIX, i cosiddetti maiali d'Europa. In tutto questo, noi per stare all'interno, diciamo così, di questa simpatica realtà nella quale ci fanno i sorrisini, abbiamo dei trattatini, tipo il fiscal compact, che vuol dire che noi per i prossimi vent'anni ogni anno dovremo tirare fuori 40 miliardi di euro per ripianare il debito, più il famoso fondo salva stati, 125 miliardi di euro per un fondo al quale anche volendo noi non accederemo mai e che serve a tenere in sicurezza gli investimenti francesi e tedeschi in Grecia, Spagna e Portogallo. Il tema vero è che per quanto riguarda il nostro Paese, noi non abbiamo avuto la continuità e l'orgoglio e la forza di essere presenti nei tavoli in cui si decideva quando si decideva. Questo è, questo è, questo è, questo è, beh, Silvio Berlusconi avrebbe, Silvio Berlusconi è stato, Silvio Berlusconi è stato eletto, infatti, quando c'è stato, infatti aveva detto non avevamo accennato le condizioni surreali che abbiamo accettato dopo, scusa però. Non ha ottenuto quello che avrebbe dovuto ottenere perché altrimenti non ci saremmo trovati a dover accettare, beh, è stato 8 anni, negli ultimi 10 anni è stato 8 anni e 5 mesi, però il tema non è Berlusconi o non Berlusconi in questo caso, in questo caso il tema è davvero che tipo di Europa noi vogliamo oggi, domani andare a contrastare. La risposta è molto semplice, non questa. Il tema è capire qual è la ricetta giusta per essere vicini alle richieste che ci vengono fatte. Le richieste che ci vengono fatte sono quelle di avere risposte per la vita quotidiana. Perfetto, quindi che si fa? Perché non ce le stanno dando queste risposte. È evidente che ormai lo sai soltanto. Noi sono anni che le chiediamo, ma non mi pare che ce le abbiano date. Noi abbiamo un governo in carica in questo momento, da un mese, nel quale abbiamo detto che ci sono margini di negoziato rispetto al fatto che si possa spendere di più, avere un accordo perché l'Europa sia per una crescita diversa e l'Europa che oggi, non solo da noi e non solo in Francia, c'è questo contracolpo rispetto a questa elezione. Io sono certa che non potrà stare ferma. Ogni giorno giorno che passa è un giorno davanti al baratro. E quindi io sono certa che l'Europa dovrà trovarsi di fronte all'urgenza. Non è neanche quello che è accaduto con Renzi, perché ripeto, Renzi è andato una settimana fa. Ma non fammi dire una cosa sola, però è andato e dopo aver detto in Parlamento noi adesso non andiamo a fare i compiti a casa, poi di fatto è andato a fare i compiti a casa, perché è andato dalla Merkel e gli ha detto ok, perfetto, che tu lo voglia o no rispetteremo tutti i patti. Eh vabbè grazie, questa non è una posizione molto diversa da quella che avevano Monti e Letta. Allora tutti quanti sanno benissimo che noi non chiamiamo i compiti a casa che è un termine offensivo, ma noi se avessimo fatto alcune riforme già da molti anni non staremmo nelle condizioni in cui stiamo. La riforma sul lavoro che è stata fatta adesso, fosse stata fatta qualche anno fa, sarebbe andata meglio. Questo è verissimo, però scusi, c'è anche l'onere della prova. Dall'altro canto, negli ultimi due anni e mezzo, cioè da quando c'è stato l'avvento del governo Monti, noi abbiamo pedissequamente eseguito qualunque ordine ci arrivasse dalla Commissione europea. Domanda per lei e per il popolo italiano. La nostra condizione economica è migliorata o è peggiorata? I nostri fattori macroeconomici sono migliorati o peggiorati? Il debito pubblico, che quando è arrivato Monti era al 120% e oggi è al 133%, è migliorato o non è migliorato? E questa è colpa dell'Italia o è colpa delle politiche che ci sono state imposte da questi signori che si permettono di riderci in faccia? Perché voglio dire, capisce bene che qualcosa non torna, no? Soltanto i ciechi possono dire che la politica di austerità abbia giovato ai paesi che l'hanno subita. A noi c'è inginocchiato la politica di austerità. Perfetto, perché? Perché condiviva la Germania, che in realtà è la padrona d'Europa. Ma allora noi non abbiamo un'unione. Noi siamo diventati una colonia tedesca. Posso dire che se devo essere una colonia tedesca preferisco staccarmi e recuperare la mia sovranità perché penso che a questo punto mi convenga perché peggio di così in Europa non può andare perché questi anni ce lo dimostrano. Le politiche che abbiamo fatto in questi anni ce lo dimostrano. L'Italia è crollata e devastata grazie alle lungimiranti politiche dei signori della Commissione europea. E anche ad alcune sue debolezze strutturate. Vi unite con Storace? Oggi dicono che lei gli ha proposto di fare il capolista delle europee. No, io ho fatto un appello nei giorni scorsi a Francesco Storace perché penso che quando si condivide la stessa storia, la stessa identità e bene o male le stesse idee, gli stessi obiettivi, non si capisce perché non si debba condividere anche la stessa bandiera. Vedremo nei prossimi giorni, anche se mi consenta Vespa rispetto al servizio che avete mandato, insomma il principio per il quale Fratelli d'Italia sarebbe per le sue origini di estrema destra vicino al front nazionale della Le Penna, insomma mi sembra francamente ingeneroso, non so se per la storia della Le Penna ma sicuramente per la nostra. Penso che abbiamo già dimostrato qualcosa. Il tentativo ogni volta di derubricare a estrema destra qualunque cosa che non sia allineata con il pensiero unico dominante, insomma è una roba che risale agli anni 70, pietà, non abbiamo nulla da dimostrare da questo punto di vista, siamo persone che difendono l'interesse nazionale, siamo un partito della nazione, se questo vuol dire essere di estrema destra per carità saremo di estrema destra, esattamente come se difendere i diritti della povera gente a fronte delle burocrazie, degli interessi ai poteri forti significa essere populisti, dico meglio populisti che servi, ma insomma non penso che questo possa derubricarsi a estrema destra e vorrei che certe cose si evitasse di continuarle a semplificare in questo modo.